Il lavoro di forza peso Quindi avremmo questa è la coordinata r con a, questo è r con b e la forza peso agisce ovviamente sempre diretta verso il basso mg punto per punto. Quindi su questi y sono questo x. Il lavoro della nostra forza peso sarà l'integrale di mg scalare dr tra a e b. Dato che però la mg è una costante perché è sempre la stessa, la possiamo tirare fuori dall'integrale, quindi verrà mg che moltiplica scalarmente l'integrale, ricordiamoci appunto che il prodotto scalare è distributivo e questo non è altro che una somma che moltiplica l'integrale di dr tra a e b. Ossia la somma, l'integrale della somma di tutti questi spostamenti dr che facciamo, questi spostamenti infinitesimi dr che facciamo. Ma la somma di tutti questi spostamenti infinitesimi equivale allo spostamento complessivo, ossia al vettore che va da a a b, che sarebbe quindi r con b posizione finale meno r con a. Quindi questo lavoro è uguale a mg che moltiplica scalarmente r con b meno r con a. Quando andiamo a fare questo prodotto scalare, tenuto conto, se lo possiamo fare sia tenuto conto del coseno dell'angolo oppure utilizzando semplicemente le componenti lungo x e lungo y, questo sarebbe mg con x che moltiplica r bx meno r a x e più mg che moltiplica r b y meno r a y. Ovviamente la componente lungo l'asse x di g è 0 perché g è orientato tutto lungo l'asse delle y e la componente lungo l'asse y di g è meno mg perché è orientato verso il basso. Quindi questo termine è 0, qui viene fuori un meno e questo risulta meno mg, la componente della r con b è la y di b, la componente y della coordinata r con a è la y di a, e quindi viene fuori y di b meno y con a, ossia m per g che moltiplica y con a meno y con b. Quindi questo sarebbe il lavoro fatto dalla forza peso. Qualunque sia lo spostamento del percorso che abbiamo fatto otterremo sempre questo stesso risultato. Notiamo che questo è maggiore di 0 se y con a è maggiore di y con b, ossia se stiamo scendendo, è minore di 0 se y con a è minore di y con b, ossia se il nostro punto sta salendo di quota. Però a parte questa considerazione abbiamo che questo lavoro non dipende dal percorso che abbiamo fatto, per andare da questo punto a questo punto possiamo rifare lo stesso ragionamento, seguendo un altro percorso il lavoro sarà sempre dato semplicemente da m per g per la differenza di quota, ossia dalla configurazione iniziale quota y con a e dalla configurazione finale quota y con b, indipendentemente dal percorso fatto. Questo ci dice che la nostra forza peso è una forza conservativa, quindi mg, la forza peso, è conservativa. Ovviamente potremmo dimostrare la stessa cosa prendendo un qualsiasi percorso chiuso e andando a verificare che il lavoro fatto in un qualsiasi percorso chiuso è uguale a 0. Questo metodo di procedura lo possiamo seguire ad esempio per andare a studiare un'altra forza. Supponiamo di andare a vedere il lavoro fatto dalla forza di richiamo di una molla, quindi abbiamo una molla che da una parte è attaccata solitamente col muro e dall'altra parte a una certa massa m, si muove quindi su un piano, in un modo dimensionale, sull'asse x. Supponiamo di scegliere come origine delle coordinate dell'asse x quella del punto in cui la molla è in equilibrio. Sappiamo che se ci spostiamo in un certo tratto x e portiamo il nostro corpo qua, in un certo tratto x la forza f è uguale a kx, la k è una costante che dipende dal tipo di molla e x è appunto lo spostamento dalla posizione di equilibrio. Normalmente qui mettiamo un meno per sottolineare che la forza è negativa quando la x è positiva, quindi è una forza di richiamo, e viceversa se comprimiamo, quindi se andiamo da questa parte per x negativa, la forza è positiva perché tende a spingere. Se andiamo a calcolarci il lavoro fatto ad esempio per andare dal punto di equilibrio 0 a un certo punto x segnato e successivamente tornare indietro, quindi il lavoro per andare da 0 e tornare a 0 sarà uguale al lavoro per andare da 0 a x segnato più al lavoro per andare da x segnato a 0, quindi sarà uguale all'integrale di f in dx tra 0 e x segnato più l'integrale di f, quindi f con x, f con x in dx tra x segnato e 0. Dove f con x in dx, il lavoro lo possiamo direttamente scrivere in questo modo perché la forza agisce direttamente lungo l'asse delle x e quindi possiamo scriverlo direttamente come la componente f con x per lo spostamento dx. Questo se andiamo a sostituire la nostra forza è uguale a l'integrale tra 0 e x segnato di meno kx in dx più l'integrale tra x segnato e 0 di nuovo di meno kx in dx. Allora il k si può portare fuori quando andiamo a fare questo integrale. Questo qua non è altro che l'x, lo possiamo svolgere l'integrale definito, sarà x 4 mezzi calcolato tra il punto finale e il punto iniziale, quindi sarà meno k che moltiplica un mezzo x segnato al quadrato meno un mezzo x sarebbe calcolato in 0, quindi un mezzo che moltiplica 0. E l'altro pezzo sarà più, da questa parte abbiamo di nuovo, meno k che moltiplica un mezzo x al quadrato calcolato in 0, x segnato al quadrato. Uguale, uguale, se andiamo a svolgere questa somma ovviamente, questo è 0, questo è 0, qua c'è un meno k, un mezzo x segnato al quadrato e qua c'è un meno k, come si semplificano a venire fuori, meno k mezzi x segnato al quadrato più k mezzi x segnato al quadrato uguale a 0. Quindi il lavoro complessivo per andare e tornare, per andare da 0 a x segnato e tornare uguale a 0. Questo ovviamente vale qualunque sia il nostro x segnato, quindi questo ci assicura che qualunque circuito chiuso noi scegliamo, percorso chiuso noi scegliamo, il lavoro è uguale a 0 e quindi la forza elastica, f elastica, uguale a kx meno kx è una forza conservativa, quindi anche essa è una forza conservativa. Ovviamente vediamo di trovare almeno un esempio di forza non conservativa, supponiamo di andare a considerare la forza di attrito radente, quindi la forza che si produce quando abbiamo un punto materiale, un oggetto posto su un piano, scabbro, quindi sappiamo che si produce una certa forza di attrito, se l'oggetto si sta muovendo con una certa velocità v, si produce una certa forza di attrito che è uguale a μ dinamico, al coefficiente di attrito dinamico che dipende dalle superfici, dalla finitura, insomma delle superfici a contatto, per la nostra normale, dove la normale è appunto la reazione vincolare che impedisce all'oggetto di sprofondare, poi ovviamente agisce anche la forza mg e qui ci sarà la normale n. Quindi questa è la nostra forza di attrito, in realtà qua normalmente mettiamo un meno per sottolineare che è una forza opposta al moto. Se ci volessimo calcolare il lavoro fatto per andare, per esempio, da un certo punto, perché qui supponiamo di metterci l'asse delle x, partiamo dall'origine che è qua, raggiungiamo un certo punto x segnato e poi torniamo indietro. Allora il lavoro fatto, il lavoro per andare da 0 e tornare a 0 sarà il lavoro da 0 a x segnato più il lavoro per andare da x segnato a 0, ossia, dato che la forza è costante, non dobbiamo neanche utilizzare l'integrale, possiamo direttamente scrivere forza di attrito per questo spostamento che va da 0 a x segnato, quindi sarà la forza per lo spostamento che vale x segnato per il coseno dell'angolo. Ovviamente quando ci stiamo spostando in questo verso, questo è lo spostamento, la forza è diretta in questo modo, è diretta nel verso opposto e quindi l'angolo è 180 gradi, quindi qui viene fuori un meno 1. Quindi questo è il primo pezzo, quando ci muoviamo da 0 a x segnato, più il secondo pezzo sarà di nuovo la forza di attrito che moltiplica questo spostamento che andrà da x segnato a 0, quindi il modulo è sempre x segnato e anche qua la forza quando ci spostiamo da x segnato a 0, questo sarà lo spostamento e la forza sarà ovviamente diretta da questa parte perché è sempre opposta al verso del moto, quindi anche in questo caso l'angolo sarà 180 gradi, quindi anche qua viene fuori un meno 1. Quindi la forza di attrito compie sempre un lavoro negativo, visto che il suo verso è sempre opposto a quello dello spostamento, in tutti e due tratti il lavoro sarà sempre negativo, quindi questa sarà la somma di due termini negativi e sarà uguale a due volte la forza di attrito per x segnato, che ovviamente è diverso da 0. O in altre parole possiamo anche immaginare, se ci dobbiamo spostare da un certo punto a un altro e possiamo immaginare di andarci seguendo questo tratto avremo un certo lavoro della forza di attrito che sarà meno forza di attrito per lo spostamento, immaginiamo in questo sia di, se immaginiamo di fare lo spostamento seguendo prima questo percorso e poi questo percorso, poiché questo tratto e questo tratto, in questo tratto e in questo tratto il lavoro sarà sempre negativo, quindi andrà a sommarsi e complessivamente il lavoro fatto in questo tratto e in questo tratto, la somma di questi due sarà maggiore di quello fatto solamente in questo, quindi il lavoro non è indipendente dal percorso fatto e dipende dalla strada che facciamo per andare ad un certo punto iniziale che è questo, ad un certo punto finale che è questo qua, per cui il lavoro non è indipendente dal percorso, questa relazione o questa ci dice che il lavoro non è, questo calcolo ci dice che il lavoro non è indipendente dal percorso ci permettono di dire che la forza di attrito radente non è conservativa e non lo è nessuna forza di attrito in generale, neanche non è conservativa. Quindi abbiamo visto due esempi di forze conservative e uno di forza non conservativa. Grazie a tutti.